Buongiorno a tutti signori ben ritrovati qui su Pausa Caffè parlando del meteo stavolta perché dobbiamo fare attenzione al caldo africano che sta per arrivare. Ci saranno punte molto calde, parliamo di 38-40 gradi almeno fino alla giornata di giovedì, ma entro venerdì c'è il rischio, ritorna diciamo, il rischio nobifragi e grandine su alcune regioni che potrebbe, e speriamo di no, portare dei danni. Apice dell'anticiclone africano in queste ore sull'Italia con il caldo che sarà in ulteriore intensificazione su tutta la penisola. Sulle zone interne del centro-sud previsti picchi fino a 36-38 gradi centigradi, fino a oltre 34-35 gradi centigradi anche in pianura padana, ma sulle isole maggiori e in particolare sulla Sardegna si potranno raggiungere anche i 40 gradi centigradi. Meno caldo lungo le coste complici, le brezze marine e il mare ancora piuttosto fresco, ma si farà sentire l'affa per gli elevati tassi di umidità.Affa alle stelle anche in Valpadana e nei grandi centri urbani, dove si soffrirà anche durante le ore serali. In alcuni casi avremo le cosiddette notti tropicali, ossia nottate in cui le temperature non scenderanno sotto i 21-22 gradi centigradi e questo in particolare ancora una volta sulle grandi città e in generale sui settori costieri. Giovedì inizierà la defiance dell'anticiclone africano in particolare al nord-ovest, dove soprattutto in serata sono attesi primi temporali. Fenomeni in particolare su Alpi, Piemonte e Alta Lombardia dove non si escludono eventi localmente violenti associati a grandinate e o intense quanto improvvise raffiche di vento. Venerdì infiltrazioni di aria più fresca atlantica raggiungeranno anche il restante nord-est e l'Emilia-Romagna con temporali sparsi che anche in questo caso potranno risultare localmente di forte intensità con nubi fragi e grandinate non escluse. Coinvolto in parte pure il centro e in particolare Toscana orientale, Umbria, Marche, più sporadicamente Lazio interno e Abruzzo. Il tutto accompagnato da uno smorzamento quantomeno parziale della canicola, più deciso sul lato adriatico e nord-est dove si potranno perdere anche oltre 4-5 gradi centigradi. Nel prossimo fine settimana qualche acquazzone o temporale raggiungerà anche sud peninsulare e Sicilia tirrenica, accompagnato un calo delle temperature, ma comunque il sole non mancherà. Occasionali temporali potranno rinnovarsi anche tra Lazio e Abruzzo, ma anche qui comunque in un contesto in prevalenza soleggiato, mentre altrove il sole sarà più deciso sul resto d'Italia. La prossima settimana vedrà invece il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre sull'Italia, peraltro in arrivo già nel corso del weekend almeno al nord e parte del centro. Avremo dunque giornate in prevalenza soleggiate ma non mancherà qualche temporale su Alpi, pre-Alpi e Appennino, il tutto in un contesto termico comunque caldo a tratti anche intenso, ma in generale meno rispetto a questi giorni. Da valutare infine un possibile break temporalesco più deciso a fine mese soprattutto al nord, ma resta ad oggi una ipotesi che necessiterà di conferme. Proiezioni a medio-lungo termine. Il nostro team di meteorologi aggiorna le analisi due volte a settimana. Si tratta di proiezioni meteo e non di previsioni specifiche, consultale nella sezione delle tendenze meteo a 15 giorni. Anche l'Italia è un paese interessato da tornado della stessa violenza dei cugini americani. Non mancano anche i casi di EF5. Spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.